Ci sono i calendari. Si conoscono tutti gli abbinamenti del prossimo campionato di Serie D con nove protagoniste pugliesi. Ad eccezione del Bari, tutte le altre sono state inserite nel tradizionale girone H che al debutto prevede subito due derby. Il prossimo 16 settembre, Taranto, Bitonto, Allo Iacovone e Nardotti, Maltamura in Salento. Sarà in campagna invece l'esordio della nuova Fidelis che inaugurerà il proprio campionato a Vallo della Lucania contro la Gelbison veterana della Serie D. Battessimo in trasferta in campagna anche per l'ambizioso Cerignola di Dino Bitetto con il Pomigliano e la matricola Fasano contro il Granata con pagine di Ercolano. Esordio sempre con una squadra campana anche per il Gravina che però giocherà in casa e ospiterà al vicino la Sarnese. Il Bari che nutre sempre piccole speranze di ripescaggio in Serie C è stato inserito invece nel girone E e al debutto sarà di scena contro il quotato Messina. Capitolo mercato. La Fidelis ha ufficializzato gli ingaggi di Giacinto Zinfolino, portiere 2000 proveniente dalla primavera del Bari. Mika Gregoric, terzino destro sloveno classe 89, che ha giocato in Europa League con il Nova Gorizza. John Christophe Aina, attaccante transalpino del 91 che nella passata stagione in Serie C ha militato prima nella Virtus Franca Villa, poi nel Biceglie. Ed Alessandro Petrucelli, cetrocapista, 99 proveniente dalla primavera della Roma. Gran colpo di mercato in eccellenza per il Molfetta Calcio di Pino Giusto, ingaggiato l'attaccante classe 87 Giuseppe Bozzi, reduce dalle esperienze in Serie D, prima a Manfredonia, squadra in cui ha avuto un rendimento altissimo e poi anche madre pietra Daunia Pricena e Gelbison prede il posto inorganico di fatto di Sene che nei giorni scorsi aveva rescisso il contratto con i Molfettesi di Comune Accordo. Domenica infine scatta il campionato di eccellenza con i seguenti abbinamenti, fatta eccezione per Barletta ed Alto Tavogliere Sansevero. La sfida tra queste due squadre è stata ufficialmente rinviata, data da destinarsi, perché il suo dalizio foggiano ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni opponendosi all'esclusione dalla graduatoria dei ripescaggi in Serie D. L'istanza del Sansevero verrà discussa nell'udienza fissata per mercoledì prossimo.